Come si è venuto a Zafferana e a Enna? Questo nuovo libro che ho fatto insieme a Pino Boero e che parla della vita e delle opere di Gianni Rodari. L'alfabeto perché è una sorta di alfabetiere nel senso che noi a misura di ragazzo ma anche di adulto, curioso e di insegnante abbiamo tentato di riassumere in breve, in maniera spero il più piacevole possibile, la vita straordinaria di uno scrittore importantissimo del nostro novecento come Gianni Rodari. È il frutto di una rete e questo aspetto è un aspetto fondamentale, noi lo diciamo spesso, da soli si va poco lontano. Quando invece la rete c'è, funziona, le sinergie si attivano, le collaborazioni si intensificano, allora la possibilità che l'obiettivo è unico e primario, è quello di avvicinare, almeno per quello che ci riguarda, i ragazzi alla lettura. Questo obiettivo è sicuramente un obiettivo più raggiungibile perché è perseguibile e perché è condiviso da più soggetti. Grazie a tutti.